ultimi giorni di vacanza anche per michelle e aurora che nel frattempo aurora fa le prove per il prossimo anno per lo svezzamento di cesare non è mio figlio è un altro è un'altra bambina sta facendo le prove a cesare ancora l'anno prossimo l'anno prossimo 3 4 beach time la paperella non c'è più è andata via è andata a farla in questi giorni di vacanza non c'è solo nonna michelle ma ci sono anche i genitori di goffredo gli altri nonni tutti assieme anche assieme a cesare